Ciao amici, buongiorno a tutti, iniziamo bene insieme questa settimana con una buona notizia, subito! Il giorno 4 maggio è la giornata mondiale, sapete di cosa? Chi indovina è bravo, della salute naturale? No, grazie di averci pensato, ma è la giornata mondiale della risata! E ci tengo a dirlo perché ho letto che ridere fa bene a tantissime cose, e quali sarebbero oltre a scoprire i denti? Ma che ti prende? Sono davvero tante! Quando ridiamo attiviamo almeno 20 muscoli facciali, così tonifichiamo il viso, ma strano, succede solo se la risata è spontanea e non per scoprire i denti. Ridere di cuore riduce la tensione e allenta l'ansia. Quando ridiamo si produce endorfina, l'ormone della felicità che combatte anche la debolezza fisica e mentale, e l'encefalina, una sostanza che combatte il dolore. È stato dimostrato che ridere rinforza il sistema immunitario. Queste cose magari si sapevano già, invece ne ho letta una proprio folgorante. E quale sarebbe? Sentite questa! Quando ridiamo molto forte facciamo un movimento sussultorio e ci teniamo la pancia, vero? In realtà stiamo facendo gli addominali e bruciamo pure calorie. E tu vuoi dire che ridere fa calare la pancia? Sembra di sì. Chi vuole approfondire l'argomento pancetta? Comunque trovo anche molte mie dritte in questo video e in quest'altro e in diversi altri. Iscrivetevi al canale per vedere tutti i miei video. Dicevo, ridere oltre a tonificare la pancia fa un massaggio salutare agli organi interni, incluso fegato e intestino. Forse per questo, come dicevano gli antichi, il riso fa buon sangue. E io che ho sempre pensato che fosse il riso da mangiare. Che figura! Beh, e questa settimana di cosa ci parli? Mercoledì per il video di motivazione voglio trattare un argomento super interessante. 5 consigli per avere una forte personalità, rafforzare il carattere, avere fascino, carisma e ispirare gli altri. Wow! Domenica per il video di salute naturale, siccome è in arrivo la bella stagione, andiamo di detox e dimagrimento naturale che fanno sempre bene. E per stare bene, anzi sempre meglio, perché non seguire anche le indicazioni dei pianeti? Vi consiglio di guardare i video del mio canale, non il solito oroscopo, del mese di maggio. Magari vi arriva la parolina giusta per sbloccare quella situazione che tanto vi sta a cuore. Il link è nell'info box qui sotto. E iscrivetevi al canale, grazie! Bene! Anche oggi è arrivato il momento dei mi piace. Siate generosi, fanno crescere il canale. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E vi dico ancora, iscrivetevi al canale con il classico click e attivate le notifiche. Noi ci vediamo presto, prossimamente, qui sul canale, naturalmente. Buona settimana a tutti, ciao! 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 Lì, 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 Lì